Eccoci ragazzi, siamo su Dawn of War Retribution, continuiamo con la campagna degli orchi, sì sì sono offline, bene, erano rimasti qua, però io devo fare questa missione facoltativa più tardi, sì mi arrivano messaggi Vedete, questo è un altro capo, è uno dei nuovi, praticamente per farvi capire, dobbiamo sconfiggere questi rivali Vabbè sì dai, possiamo cominciare, ah selezioniamo gli eroi E' meglio questo, così la campagna di popolazione dà 60, assolutamente sì Cioè l'eroe è figo, gli eroi sono veramente utili, però quando si tratta di questi sono meglio loro Uno per la capire, però gli eroi mi servono, devono essere potenziati Ah ma divertiamoci, siamo ancora in livelli basi, eccoli qua, fronteggia il pericolo Ok, alcune squadre, ok, vabbè è banale questo, vabbè sì Le armature gialle Dice lui Cioè praticamente loro sono tutta un'altra organizzazione degli orchi Si, praticamente dovete sapere com'è nel fantasy Si, praticamente Si queste arrivano belle e buone, se ne vanno, si si si, non mi va di attaccarli adesso E quelli fanno a turno, vanno via, su e giù, fino ad arrivare sotto Allora dovete capire, dovete capire che i orchi praticamente vivono a forma di clan Quindi questo è come fosse tutto un altro clan Però io voglio una nuova armata, quindi uno, due, non posso Vabbè, usiamo due soldatini Quindi uno questo, vi spostate E questi qua invece siamo i bruciatori Dai Vediamo chi è che l'ha usato il bruciatore Tutti quanti vedo No, solo, ah, solo uno ha usato il bruciatore Che doll Bene Andiamo Ah, un altro gruppo di Di jackpac Mo' arriverà Si vede già in posizione che quelli mo' voleranno Ecco appunto Gli orchi vivono a clan Quindi per loro è indifferente Sono orchi, sì, però non sono dello stesso clan Quindi si sfondano e si scannano Quindi è tutto normale E intanto questi saliranno di livello in più in là E io questo voglio LOL Bellissimo Imbecilli Ho usato il cervello Non è vero, mi diceva di attaccare là Bene, possiamo continuare Perché poi ci sono le cose dei Space Marine qua, è vero? È tutto normale Il warg, vedete? Quindi ci sarà il warg Ah, è vero, io ho sbloccato questo Torretto quindi buono, è vero Io l'ho sbloccata La torretto, so sbloccata la torretto Quindi in teoria devo posizionarlo da qualche parte Che se no Che cosa ho appena visto? Che cosa Che cosa hai fatto? Ho visto qualcosa di inquietantissimo Vedi se i soldati come si stanno muovendo mamma Uh, andiamo subito Sì, vedete, fa tutto un targitto ora, no? Ma che volete, sparite Questi lezzini che mi vogliono attaccare Ma chi siete? Sparite Oh, la lattina E la scatoletta di tonno Praticamente Sì, sì, ma io voglio una cosa che è Sì, sì, ma io voglio una cosa bella Beh, bella no, però semplicemente devo passare per di qua La torretta la userò F2 in altre occasioni Chiedemi contatto Vediamo un po' Esplosione Allora, vediamo un po' Sì, a parte che sono pericolosissime Poi dovevo usare gli eroi Vabbè, uso gli eroi No, non voglio usare questo perché Si vedi più 5 Quindi aumenterebbe La capienza E non lo voglio adesso Così conquisto anche questa cosa Intanto Mamma mia, è inutile proprio Conquistiamo Abbiamo conquistato questa zona 50 Quindi Abbiamo aumentato i soldatini Quindi 1 2 Magari 3 Vediamo No, questi devono fare tutto un tragitto Non possono fare qua nient'altro di particolare Perfetto Così almeno è aumentato E così sono 50 ragazzi Intanto Livello up Ottimo Questi non hanno nient'altro Da fare Oddio i lanciamissili Che tengono Vabbè, sono tutti armati Bravi Full facchione Peccato che non posso Mettere qualcuno Vedete Vedete Peccato Lo so che ho bisogno di Stiamo arrivando Che poi sono piccoli Vedete Sono dei piccoli orchi Questi Mi servono Sono ottimi Sto migliorando la mia squadra Abilità globali Abilità globali Ah, ecco com'è Eh, sì Bene Bene, possiamo avviarci Insomma Andiamo a come andare Allora, detto questo E non lo posso neanche mettere Effettivamente Allora, eccoci qua Guarda quanti ne siamo Adesso Ma possiamo andare Sì, perché tanto se sblocco Aumento questo Sarà fighissimo Perché poi Sì, è una cosa che devo capire Dove sta il mio compagno Il mio eroe Eccolo Eh, sì Bene, ci siamo curati Però mi serve Ah, sì, sì Ma qua mi dà una missione Del tipo distruggere I ponti Sì, sì, sì Assolutamente Andiamo a distruggere tutti i ponti Sì, perché me lo stai indicando Del tipo Distruggiamo i torri Siete pure dei pezzi di merda Perché Uno Andiamo qua Voi distruggete Questo Voi distruggete Andate qua Sì, sì No, lo sto facendo Voi Quattro Andate qui Immediatamente Ah, cazzo Uffa Muovisi L'abbiamo persi inutilmente Dai Non avevo capito Che c'erano Madonna Le abbiamo persi tutti Le abbiamo persi E' Che c'erano Voi distruggete E' L'abbiamo persi Testa Le abbiamo persi L'abbiamo persi sì 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 allora fermi tutti uno devo andare a conquistare andate a conquistare questo poi andate a conquistare questo mannaccia a voi orchi che state ovunque voi pronto pronto sì 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 tutto a posto eh ah sì 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 eh ma immaginavo mamma ah ok non ti preoccupare oh mo mio padre è qua mi sembra ok ciao sì ero al telefono intanto dannazione muovetevi ma parlando che ho finito i miei compagni ah eccolo e curalo lezzino ma parlando che ho finito i miei compagni si è la prima ondata e lo so ragazzi è la prima ondata e lo so e facciamo questo mettiamo l'oro e mettiamo l'oro anzi l'oro vediamo un po' come viene questo lo metto insieme agli altri qua questi li metto qui mettiamoli e 9 che devo sistemare un poco lol ne ho messi due praticamente ottimo questo l'ho messo qua distruggi e distruggi è una cosa assurda scusate mi sono un attimo fissato che devo sì comunque deve venire da noi prima voglio distruggere tutti questi 1 2 3 4 1 2 3 e 4 e mettere qua un altro però lo voglio mettere mamma mia distruggere distruggere bella bel danno mamma mia che è successo ho visto un bug che di merda che è successo è una cosa assurda si perchè io li metto così e sparo una raffica distruggetelo e andate qua ho visto un cazzo di garra armato che è passato distruggete quel coso perchè è una cosa a ghiacciare, beh bravi vediamo se dovrebbe starci tutto con voglio no, con voglio degli orchi dobbiamo eliminare tutti quegli esseri si, lo vedete, ho controllato, vedete? ecco lì, due con voi ci saranno adesso quindi uno va messo qua si scusate che ora sono un po' distratto che voglio ho però, cento, sessanta, cinque posso mettere qualcosa altro? no no, il mio caporco era qua ok, va bene vediamo se funziona questa cosa che mette pensavo di peggio perchè me l'ha indicato come fosse che c'è qualcosa c'è qualcosa di grosso che sta arrivando ah, è un altro con voglio distruggete, distruggete, distruggete non deve passare nessuno ottimo, brava, brava gente brava gente bella che cura tutti si, si, perchè di tanto a me me sto sbattendo di mettere l'unità mi interessa mettere questo qui si, si, perchè tanto fermi, fermi, fermi mamma mia, è tosta, è tosta, è tosta cioè, non è che è tostissia, però mamma mia ah, lol, bellissima quel capitale che abbiamo avuto è stato praticamente inutile questa è per assunto la cosa dai, non so quanto tempo è passato però è stato bello intanto ho ottenuto equipaggiamento vedo uno scarto pesante cos'è? ok, da come la spiega vabbè, salito di livello lui, complemento livello 3 questo sto, sono tutti a livello 3 ah, che ah, che bello quando ottiene una corazzata del genere mi fa felice ecco lì qua però a me non mi servono mi servono aspetta, perché cosa mi serviva adesso? devo potenziare qualcuno ah, sì le squadre dei capi dai sì, mi servono la squadra dei capi non mi interessa voglio lui confere perché più hai unità meglio è ragazzi più avete unità portate in mano meglio potete gestire tutti quanti perché i carri sì, però loro sono i più importanti che poi se tu potenzia questi qua no? divento delle bene intanto posso potenziare mettiamo sì, questo lo sento è buono questo sbloccano a terra le vicine è buono vabbè, sì se lo faccio salire è otto questo è così eh, però lui è sempre un tank mi servirebbe fino a quando non lo capito questo invece mi servirebbe ottimo così salire di livello perché l'avevo visto effettivamente corazza mi serve un po' di corazza vedete ah, vada un po' di corazza gli serve mentre agli altri mi serve una corazza tutto vedi, questo eh, vedi, livello 50 a questo da livello 5 vabbè, a me è in 42 rispetto a questo però ho 50 di energia da come luccica come luccica vabbè, non mi interessa dai ragazzi facciamo la prossima volta la prossima l'artigo sto facendo pian piano però sai capite dico beh le partite comunque ci mettono dai